Scusi, lei dove va? Dal direttore Ma ce l'ha l'appuntamento? E certo, mi sono vestito così apposta Sono Manbelli, del reparto Vernici Siccome per l'ennesima volta un nostro collega si è sentito male Io avrei delle comunicazioni molto urgenti da fare Beh, visto che sei entrato, sentiamo un po' di che cosa si tratta Ecco, noi del reparto, che è un ambientino leggermente diverso da questo Ci siamo come dire... posso esprimermi con parole mie? Certo Ci siamo rotti il cazzo Perché da un anno ci avete promesso i depuratori e ancora non li avete messi Ho capito, Manbelli Qui si tratta di organizzare una consultazione paritaria col consiglio di fabbrica Va bene No, qui si tratta di mettere le manine nelle tascone e tirar fuori i soldi per i depuratori Chiaro? Ne, Manbelli, non esageriamo Adesso stai uscendo dal seminato, capito? Oh, Manbelli, che cosa vuoi fare? L'esame finestra L'esame finestra Voglio farle vedere cosa abbiamo noi nei polmoni Venga, sa comodi Sa comodi? Prego Giallo canarino 417 Impressionante, vero? E adesso credo di avere qua un azzurro cobalto 313 E anche questo non è venuto male Ma se avessi ancora dei dubbi sull'utilità dei depuratori Potremmo fare una prova su di lei Con un color verde ramarro No, 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 buono, buono, buono Ho capito tutto Buono, buono Chiaro, 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 chiaro Ho capito tutto Tutto chiaro Adesso Adesso Grazie a tutti. Adesso guardiamo. Come vanno le cose? Tutto sotto controllo. Marcioli, Perchiazzi e Iovine sono usciti con quasi mezz'ora d'anticipo. La signora Colombo è uscita puntuale ma con un livido sulla gotta sinistra. Si sospetta lì con un marito geloso. E, grossa novità, la cameriera dei Bonivento è rimasta incinta. Ma da quando? Da venerdì notte. In confronto a lei la Digos è robata di lettanti. Ma cos'è sta Digos? È come una portineria, no? Però in grande ma segreta, dove tutti sanno tutto di tutti ma nessuno lo deve sapere. Così si evita che succeda qualcosa di grave. Arrivederci e mi raccomando. Buona guardia. Certo che faccia la guardia. Ehi, Gandhi, che cosa fai? Monta. Oggi è il turno mio. Ah, già. Senti la novità. Da quando il Cagliari è passato in seriati si è montato la testa, eh? Sempre la gazzetta, leggi, eh? Si vede che c'hai nostalgia della box. Eh, Gandhi. Ah. Stanotte ho sognato che combattevi contro Carlos Monzoni. Dopo un match senza risparmio di colpi tu lo mandavi K.O. Con un diretto d'incontro. Comunque dormiamoci sopra. Senti un po'. Secondo te quel mambelli del terzo piano? Chi? Il Gandhi? Gandhi, appunto. È un uomo? Se il Gandhi è un uomo. Ah. Non ho capito. Quello si chiama Bernardo. Porti i pantaloni. Tiri certi cazzotti che Dio ce ne liberi. Più uomo di così lo vuoi. Ma secondo te uno che cammina così è un uomo? Com'è? Com'è che cammina? Così. E chi è che cammina così? Il Gandhi. L'ho visto io stanotte. Ma cosa guardi? Eh, lo so io cosa guardo. Lo so io. Ah, eh. Eh, guarda là piuttosto. Signor Elvira, signor Pietro, buona domenica. Altrettanto. Buona domenica. Ma cosa guardi? Niente, 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 che guardi, che guardi. Sto pensando, sto pensando che io scopo il cortile. E quello là, il Gandhi, se scopa, quello là se scopa. E poi tu mi vieni a domandare se quello là è un uomo. Ma lo sai, tu dovrai visto il Gandhi che cammina tutto così? Là l'ho visto. No, mia cara. Qua, ecco qua, vede, nella bottiglia. Qua, qua c'è il Gandhi che cammina tutto così. E quando bevi tu vedi il Gandhi che cammina tutto così. Sì, cammina quello là, lo vedi il Gandhi, lo vedi. Sì. Sì, cammina.